Oggi un corso di aggiornamento rivolto a personale medico e personale infermieristico. Questi corsi danno sicuramente nuove acquisizioni. A che punto siamo e soprattutto il progetto come va avanti? Il progetto sta andando avanti. Abbiamo intensificato l'impianto dei cateteri e la formazione che riguarda sia l'impianto dei cateteri venosi che la gestione, che è poi la parte fondamentale. Inoltre ci stiamo avviando verso nuovi sviluppi che riguardano non solo l'introduzione di nuovi cateteri, quindi di materiali nuovi con tecnologie nuove, ma anche c'è un interesse verso l'introduzione di ecografi di nuova generazione e soprattutto di sistemi di rilevamento della punta del catetere. Prendiamo ad esempio il sistema Sherlock che ci consentirà di effettuare impianti sempre più sicuri, tutto questo a salvaguardia ovviamente della qualità dell'impianto e quindi della qualità anche della vita del paziente. Dottoressa, durante il vostro cammino nel progetto avete avuto difficoltà particolari o anche la popolazione è entrata nella mentalità? È entrata assolutamente nella mentalità, ormai l'idea dell'impianto di un catetere per effettuare nutrizioni, chemioterapie è all'ordine del giorno, quindi i pazienti sono informati, i colleghi sono informati, si lavora benissimo in questo senso.